Buongiorno a tutti, vi ringrazio calorosamente per l'invito. Io mi chiamo Fortunato. Fortunato in ebraico significa abbondante e quindi spero che questa abbondanza, spero di umanità, di grazia, ma anche di peccato, perché anche io sono un peccatore, possa con voi e insieme a voi poter condividere brevemente il nostro impegno. Sono un parroco di periferia della Sicilia, una terra bellissima che raccoglie la maglia Grecia, una terra piena di vita e di monumenti, ma soprattutto piena di speranza. Sono qui perché desidererei con voi condividere una mia verità, ma spero che sia anche la vostra. I bambini sono tutti bambini e quindi di conseguenza i bambini dovrebbero accomunarci anziché dividerci. Spesso mi hanno chiesto in questi giorni perché io sto venendo al congresso delle famiglie qui a Verona. Io ho detto vengo soltanto perché mi danno la possibilità di poter parlare dei bambini, dei bambini violati, dei bambini abusati, dei bambini vessati, dei bambini maltrattati, che ora in un breve mia piccola relazione cercherò di rappresentare. Trent'anni di attività con Metare mi hanno condotto anche qua. Nella mia vita ho fatto 4.000 congressi, 4.000 non sono pochi in tutta l'Europa, dove ho cercato per quanto mi è possibile di rappresentare i bambini. Pertanto vorrei iniziare così. Con la bocca dei bambini, dei bimbi e dei lattanti si innalza la tua magnificenza, o Dio. Così recita il Salmo 8. E se i peccatori germogliano come le erba e fioriscono tutti i malfattori, li colpirà una rovina eterna. Queste le parole del Salmo 91. Laddove i malfattori sono, in particolare, almeno così come le interpreto io, coloro che praticano la violenza, l'abuso nelle sue varicate infernali forme, che rende succubi e schiavi innocenti nell'innocente, cioè i piccoli. Sono qui anche a questo congresso con lo spirito delle parole con cui Papa Francesco, ma ancora prima anche Benedetto XVI, ma in questo caso Papa Francesco, il 24 febbraio scorso ha parlato del dramma della pedofilia e degli abusi sui minori, al summit straordinario da lui voluto contro questa piaga. E faccio mie le sue idee. L'abuso di potere è presente anche nelle altre forme di abusi, di cui sono vittime quasi 85 milioni di bambini, dimenticati da tutti, ripeto, dimenticati da tutti. E i bambini soldato, i minori prostituiti, i bambini malnutriti, i bambini rapiti e spesso vittime del mostruoso commercio di organi umani, oppure trasformati in schiavi, i bambini come fenomeno globale vittime della guerra, i bambini profughi, i bambini abortiti e così via. Queste sono le parole di Papa Francesco. Un fenomeno globale che richiede una risposta efficace ai parimenti globale, si comprende perché, al di là delle parole e delle belle intenzioni. Basti pensare che dato mai smentito, quindi quello che vi dirò è un dato mai smentito, solo in Europa ci sono 20 milioni di bambini abusati e se il rapporto è uno a uno, stiamo parlando che ci sono 20 milioni di predatori e di abusatori ancora liberi nel nostro territorio europeo. Ma anche qui, vedete la slide, basta legge il nostro report 2018. Prima però di addentrarci nella nostra conversazione è opportuno rivolgere una domanda. La pongo anche ai giornalisti che mi stanno ascoltando e io spero che domani almeno qualcuno si azzardi a fare una prima pagina con una domanda. La pedofilia è un crimine, secondo voi? Fino a quando non saremo d'accordo sulla realtà dei fatti e cioè sul fatto che la pedofilia non è una malattia ma un crimine che alimenta un'industria molto fiorente, allora non riusciremo a fare un passo avanti nella lotta a questa nefanda realtà. Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con loro nome, senza paura e senza vergogna, altrimenti avremo solo perso tempo, anzi io qui avrei solo perso tempo, spero di no. Il fenomeno degli abusi sessuali sui minori è così vasto, complesso, trasversale, criminale, alimentato anche dal relativismo e da ideologia che lo giustificano, che richiede un impegno costante, duraturo, senza sosta, un impegno che non addiverrà molto probabilmente ad una soluzione per debellarlo definitivamente, ma che costituisce comunque una possibilità di contrastarlo. Non per tutti purtroppo, non per tutti purtroppo, la pedofilia e la pedopornografia e gli abusi sui minori sono un crimine, ancora oggi. In alcune nazioni non è ancora il reato e potenti lobby vogliono normalizzarla e giustificarla. E se fosse tua figlia? E se fosse tuo figlio? Quanta crudeltà in queste nuove e vecchie forme di violenza sessuale sui piccoli, che non hanno neanche la facoltà di poter chiedere aiuto, né di disegnare qualcosa che faccia emergere l'accaduto, perché sapete? Sono troppo piccoli. Certi che non dimenticheranno. È come se si incidesse sulla loro carne un marchio di fuoco rovente, una sorta di marchio indelebile della crudeltà di uomini e di donne. Forse sono i loro stessi bambini o quelli scomparsi e ce ne sono tanti, che solo chi riesce a saper guardare, ad ascoltare, anche il semplice farfugliamento che grida il dolore e la sofferenza può garantire la possibilità di una libertà, una libertà sperata. Ecco perché personalmente con metter da trent'anni io ti libererò e farò di tutto, un impegno senza sossa e senza fine. La pedofilia è un fenomeno trasversale, molto trasversale. Possono essere abusanti uomini e donne appartenenti a tutte le categorie, papà, mamme, professionisti, insegnanti, sacerdoti, persino di qualsiasi orientamento sessuale. Perché l'abuso è abuso, da qualunque parte provenga. Perché l'abuso distrugge la vita innocente dei bambini, da qualunque parte provenga. Perché è bene ribadire, lo ripeto, da chiunque sia commesso e abuso e provoca un trauma psicologico e fisico permanente. Dai neonati ai bambini prepuberi. Lo ripeto. Vediamo se i giornalisti domani in prima pagina lo scrivono. Se vanno avanti con la slide. Dai neonati ai bambini prepuberi. Perché l'età massima preferita dagli infantofili e dai pedofili è fino a 12 anni. Fascia preferita, 0-2 anni. A seguire 3-7 anni. Fino alla fascia più richiesta, 8-12 anni. Una violenza indicibile e devastante. Questa è la realtà. Che in 30 anni di attività con Meter, per combattere contro la pedofilia e la pedopornografia online, ho purtroppo, o purtroppo, perché forse voi non l'avete visto mai, ma io ho purtroppo visto e per la quale ho anche rischiato la mia vita. Io ringrazio le forze di polizia che hanno alzato la tutela per venire al congresso di Verona. Io già da 20 anni sono sotto tutela del Comitato di Sicurezza ed è impressionante venire a parlare a un congresso, alzare il livello della mia protezione ed è una cosa che mi dà veramente, ma ringrazio le forze di polizia per aver fatto questo. Perché vedete, quando 30 anni fa iniziai questa faticosa ma entusiasmante avventura a commentare Onlus, di questo fenomeno non ne parlava nessuno. Ora sono nati i professionisti dell'antipedofilia ed è giusto che ci siano. Non denunciava nessuno, non esistevano neanche le leggi. Perdonatemi questo orgoglio siciliano. La prima mozione al mondo votata contro la pedofilia e la pedopornografia è stato il Parlamento italiano nel 1997 e porta il nome di questo prete siciliano. Tanti anni fa, ma la prima mozione al mondo che aprì il varco dell'impegno costante, permanente contro questo crimine. In questo mondo indifferente un gruppo di giovani e io, giovani sacerdote, iniziamo questa lotta contro la pedofilia, contro gli erodi di quel tempo e di questo tempo, contro tutti coloro che vogliono sopprimere i bambini, il bambino. Avventura certamente pioneristica e unica nell'azione di tutela, di prevenzione, di informazione e di denuncia. In questi anni, a causa dell'impunità dei soggetti sul web e si è sviluppato un turpe mercato di materiale pedopornografico. Addirittura in alcuni siti esiste la possibilità di acquistare pacchetti che garantiscono aggiornamenti giornalieri, se vai avanti con l'altra slide, la possibilità di diventare membro della piattaforma. Abbiamo dovuto coprire le elefandezze che fanno ai bambini, per ovvie ragioni. Ma questo qui è un portale dove da tutto il mondo si può acquistare il pacchetto con bambini abusati sessualmente in tutto il mondo. Gli utenti possono liberamente immaginate, liberamente esprimere le loro preferenze, votando la categoria di interesse. Questa strategia permette di sondare il reale interesse degli utenti al fine di produrre materiale coerente alla richiesta per ottenere un profitto economico maggiore, il tutto nel totale anonimato e con un giro di affari enorme. Vai nella quarta slide, ecco, un mercato enorme. Il problema è che voi non avete mai visto quello che noi vediamo. La lobby pedofila, e vado alla fine, la rete non è esclusivamente uno strumento di diffusione di foto e video che i pedofili e i pedopornografi utilizzano, ma serve anche a diffondere e promuovere la pedofilia per un'opera di normalizzazione. Costantemente denunciamo una serie di iniziative volte alla raccolta fondi per sostenere la causa della normalizzazione appunto della pedofilia, celebrata ogni anno, ogni anno celebrata dai pedofili in tutto il mondo, in un'apposita giornata mondiale dei pedofili. Ogni giorno in tutto il mondo, attraverso il web. Per contrastare il dio gira pedofila l'Italia nel ratificare la convenzione di Lanzarote il 25 ottobre del 2007 con la legge 172 del 2012, di cui Medara ha molto contribuito, ha introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 414 bis del codice penale. Ha introdotto cioè il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. Istigare alle pratiche di pedofilia e pedopornografia in Italia, e non solo in Italia, dovrebbero essere ratificate in tutti i paesi membri dell'Europa, è un reato. È un reato istigare alle pratiche di pedofilia e pedopornografia. Per la prima volta l'espressione pedofilia e pedopornografia è entrata nel nostro ordinamento, ma nonostante la convenzione di Lanzarote i siti continuano a proliferare nel web. Vari i loghi identificativi, se vai avanti, i simboli per riconoscerli, ecco qua. Vedete, questi sono tutti loghi che se voi li incontrate sul web sono le lobby pedofile che promuovono la normalizzazione della pedofilia. Un sistema veramente esteso, molto difficile da contrastare per ovvie ragioni. Comunque i simboli delle organizzazioni pedofili infatti incoraggiano l'uso delle descrizioni by love, girl love, child love. Permettetemi allora di concludere, di trarre delle conclusioni. Abbiamo noi in Europa e nel mondo un contrasto non uniforme, tenui e opache risposte che risultano poco efficaci. Noi soltanto lo scorso anno abbiamo denunciato 3 milioni di foto di pedopornografia e un milione di video che corrispondono a 5 milioni di bambini coinvolti dai neonati a 12 anni. 5 milioni di bambini. Ma non pensate che il mondo, pensare solo questo, o se la stampa che ha un grande potere di comunicazione dovesse scrivere in prima pagina che ci sono neonati abusati, non dovrebbe un po' il mondo sollevarsi? Questa società civile, democratica che difende i diritti dei bambini? Non pensate che dovrebbe essere così? La cosa drammatica, la cosa drammatica che noi il 21 marzo abbiamo presentato il nostro report, non ne ha parlato nessuno se non soltanto i nostri quotidiani, le riviste cattoliche italiane, nessuno. Ed è molto facile fare il salotto nei media e parlare di tutto fuorché di tutto, ma andate ad analizzare i media se parlano di pedofilia e pedopornografia. io domani mi aspetto un sussulto intelligente. Le ultime quattro parole. Vorrei lanciare un appello alle polizie e ai governi europei e del resto del mondo. Noi non sconviggeremo questi raffinati criminali ignorando le segnalazioni. Voi neanche immaginate formalmente e con documenti le migliaia di segnalazioni che inoltriamo alle polizie di mezzo mondo. Soltanto quella italiana tratta ovviamente per ovvie ragioni di cui apprezzo abbiamo un protocollo, le altre il silenzio assoluto. E poi si dice che dobbiamo lottare contro la pedofilia e la pedopornografia senza che si muove neanche un passo. C'è una politica distratta e senza alcuna progettazione eh già, senza alcuna progettazione sul potenziamento di norme per il contrasto al fenomeno e anche alla cooperazione. Non è una priorità. Manca un'azione preventiva ed educativa, veramente efficace ed incisiva. Arma vincente per un percorso della tutela del minore. Non c'è un diritto uniforme, non c'è un intervento uniforme. Ci vorrebbero un'Europa e tante altre nazioni nel mondo che si occupassero responsabilmente e seriamente della protezione dei bambini. Il silenzio e l'indifferenza, eh cari media, il silenzio e l'indifferenza uccidono maggiormente la già debole protezione dei bambini. La vita dei bambini vittime di questa azione perversa e crudele. Un abuso è sempre un abuso e lascia cicatrici permanenti. Io vi vorrei invitare al nostro Centro Meter. Abbiamo noi accompagnato negli ultimi 15 anni 1.600 vittime di abusi sessuali. 1.600 vittime. Abbiamo denunciato 3 milioni, 3 milioni di siti pedopornografici nel mondo. 3 milioni. Chi ne ha parlato? Noi qui, stamattina e in tanti altri convegni dove vado. Concludo. Vi consiglio pertanto, se vai avanti con l'ultima slide, di consultare il report 2018 nel nostro sito. Andate a vedere, c'è tutto. Grazie per la vostra attenzione. Sempre avanti, auspicando che i bambini, le giovine vittime non devono essere vilipesi abusate, ma devono essere protette, devono essere protette fin dal concepimento. Grazie. Dio vi benedica. Grazie. Grazie. Grazie.